Dialogo 1 I miei film e programmi tv comici preferiti. In questa conversazione, Matteo e Sara parlano dei loro film comici e programmi tv preferiti. Condividono le loro esperienze divertenti e raccontano le scene che li hanno fatti ridere di più. Ciao Sara, sai, mi piace molto guardare film comici e programmi tv divertenti. Hai qualche preferito? Ciao Matteo, sì, anche io amo ridere guardando film e programmi comici. Uno dei miei film preferiti è, Boris. L'hai mai visto? Sì, l'ho visto. È davvero divertente. Mi piace come si prende gioco del dietro le quinte delle produzioni televisive. Esattamente. Le situazioni assurde e i personaggi eccentrici mi fanno ridere molto. Qual è la tua scena preferita? La scena in cui René Ferretti, il regista, perde la pazienza e inizia a gridare contro tutti. È esilarante. Oh sì, quella è davvero spassosa. Mi ricordo di aver riso tanto anche io. Hai qualche altro film da consigliarmi? Sicuramente. Ti consiglio, amici miei. È un classico film comico italiano degli anni 70. Le avventure dei protagonisti sono esilaranti. Non l'ho ancora visto, ma lo aggiungerò alla mia lista. Grazie per il consiglio, Matteo. Ora, passando ai programmi TV. Hai qualche preferito? Sì. Uno dei miei preferiti è, Striscia la notizia. È un programma satirico che prende in giro le notizie e le personalità famose. Mi fa ridere ogni volta. Anche io guardo, Striscia la notizia. Mi piace come trattano i fatti di attualità con ironia e sarcasmo. Qual è il tuo segmento preferito? Mi piace molto la rubrica, Veline. Le battute degli autori e le performance delle ragazze sono sempre divertenti. Sono d'accordo. Le Veline hanno un grande talento nel fare comicità. Un altro programma TV che mi fa ridere è, Made in Sud. Conosci? Sì. L'ho visto alcune volte. È uno show di cabaret con comici molto bravi. Le loro imitazioni e sketch sono esilaranti. Sì. Mi piace come riescono a coinvolgere il pubblico e creare un'atmosfera allegra. È un ottimo modo per rilassarsi dopo una giornata impegnativa. Assolutamente. Ridere è un ottimo modo per distendersi e migliorare l'umore. Mi piace quando posso condividere queste risate con gli amici. Sono d'accordo, Matteo. Guardare film comici o programmi TV divertenti, è un'ottima forma di intrattenimento. Mi fa piacere sapere che abbiamo gusti simili. Anch'io sono contento di poter condividere queste passioni con te, Sara. Non vedo l'ora di sentire quali altri film e programmi comici ti piacciono. Sarà divertente scoprirlo. Continueremo a parlare dei nostri preferiti nella prossima parte della conversazione. Ciao Sara. Sono contento di continuare a parlare dei nostri film e programmi TV comici preferiti. Hai qualche altro titolo da consigliarmi? Certamente. Matteo, un altro film comico che mi ha fatto ridere molto è, Benvenuti al Sud. È una commedia che racconta le divertenti disavventure di un uomo trasferito in un piccolo paese del Sud Italia. Lo hai visto? Sì. L'ho visto ed è davvero esilarante. Le differenze culturali e le situazioni comiche che si creano sono fantastiche. Una scena che mi ha fatto ridere tanto è quando il protagonista cerca di imitare l'accento meridionale. Quella scena è davvero divertente. È incredibile come l'accento possa creare situazioni comiche. Oltre ai film, hai qualche programma TV che ti ha fatto ridere di recente? Sì. Di recente ho iniziato a guardare, Colorado. È uno spettacolo comico con una serie di comici che si esibiscono in sketch e battute. Mi piace come riescono a coinvolgere il pubblico con le loro performance. Anch'io guardo, Colorado. È un programma molto divertente. E ogni comico ha un suo stile unico. Quale comico ti fa ridere di più? Mi piace molto il comico Ciro. Le sue imitazioni e le battute sulle situazioni di vita quotidiana sono sempre esilaranti. E tu? Hai qualche altro programma TV da consigliarmi? Sì. Se ti piace l'umorismo surreale, ti consiglio, striscia la notizia TG5, con il comico Pio e Amedeo. Si prendono gioco delle notizie e degli argomenti di attualità in modo molto divertente. Li conosco. Sono molto bravi nel creare parodie e sketch comici. Mi piace come riescono a unire l'umorismo alle notizie di cronaca. Grazie per il consiglio, lo aggiungerò alla mia lista. Di niente. Matteo. Sono felice di poter condividere i miei spettacoli comici preferiti con te. Mi fa piacere sapere che abbiamo gusti simili in termini di comicità. Anche io sono contento, Sara. È bello avere qualcuno con cui condividere le risate. Continueremo a scambiarci consigli e racconti divertenti nella prossima parte della conversazione. Non vedo l'ora. Sono sicura che ci saranno altre risate in arrivo. Ci sentiamo nella prossima parte della conversazione. Ciao Sara. Sono entusiasta di continuare la nostra conversazione sui film comici e programmi TV. Hai qualche altra raccomandazione per me? Certamente. Matteo. Un film comico che ti consiglio è, Vacanze di Natale. È una commedia divertente che racconta le disavventure di una famiglia durante le vacanze natalizie. Ti assicuro che non potrai smettere di ridere. Grazie per il consiglio, Sara. Mi piacciono i film che mettono in luce i momenti di caos familiare durante le festività. Sono sicuro che mi divertirò molto a guardarlo. Sono contenta che ti interessi. Ti consiglio anche un programma TV comico chiamato, Le Iene. È un mix di comicità, satira e inchieste giornalistiche. Hanno uno stile unico che mescola l'umorismo con l'approfondimento delle tematiche sociali. Ho sentito parlare di, Le Iene, ma non l'ho mai visto. Sembra un programma molto interessante. Mi piace l'idea di unire l'umorismo all'informazione. Lo aggiungerò alla mia lista dei programmi da guardare. Fantastico. Sono sicura che ti piacerà. È importante anche ridere di argomenti seri per alleggerire la tensione. Hai qualche aneddoto divertente da condividere riguardo a un film o un programma comico? Certamente. Una volta, mentre guardavo un film comico al cinema, ho riso così tanto che ho iniziato a singhiozzare involontariamente. Tutti i presenti si sono girati a guardarmi. È stato imbarazzante, ma alla fine ci abbiamo riso insieme. Ha ha. Capita a tutti di ridere così tanto da non riuscire a controllarsi. È bello quando la comicità ci fa perdere le inibizioni. Io invece ricordo di aver riso talmente tanto guardando una serie tv che ho fatto cadere il telecomando a terra. Ha ha. Capisco. La risata è contagiosa, e può portare a situazioni divertenti. È bello poter condividere questi momenti di leggerezza con gli altri. Esattamente. La comicità ha il potere di unire le persone e creare momenti di gioia e allegria. È un modo meraviglioso per alleviare lo stress e rendere la vita più piacevole. Concordo pienamente, Sara. La comicità fa parte integrante della nostra vita, e ci permette di affrontare le sfide quotidiane con un sorriso. Sono grato di aver avuto l'opportunità di parlare dei nostri film e programmi tv comici preferiti. Anch'io sono felice di aver condiviso queste esperienze con te, Matteo. La risata è un linguaggio universale che ci unisce tutti. Continueremo a scoprire nuovi spettacoli comici e a ridere insieme. Assolutamente. La risata è un tesoro che dobbiamo custodire. Grazie ancora per questa piacevole conversazione, Sara. Grazie a te, Matteo. È stato un piacere. Continueremo a cercare nuove fonti di comicità e a divertirci insieme. Ci sentiamo presto. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 2 I film e le serie animate preferite. In questa conversazione, Giulia e Marco parlano dei loro film e delle loro serie animate preferite. Condividono entusiasmo e ricordi legati a queste produzioni che hanno reso le loro giornate più divertenti e piene di magia. Marco. Sai quale film d'animazione è il mio preferito di sempre? La Bella e la Bestia. Adoro la storia incantevole e le meravigliose canzoni. Giulia. Sono d'accordo al 100%. La Bella e la Bestia, è un classico intramontabile. Anch'io adoro la magia della storia e le canzoni che mi fanno emozionare ogni volta che le sento. C'è anche un'altra serie animata che mi ha conquistata. Le avventure di Peter Pan. Mi trasporta in un mondo di fantasia e avventura. Peter Pan è un personaggio iconico. Anch'io ho trascorso tante ore a guardare quella serie. Mi piaceva immaginare di volare con Peter e i suoi amici nell'isola che non c'è. Hai mai visto, Frozen? È uno dei film d'animazione più popolari degli ultimi anni. Mi ha affascinato la storia di Anna ed Elsa e le loro incredibili avventure nel regno di ghiaccio. Sì. Ho visto, Frozen. E devo ammettere che è davvero fantastico. Le canzoni sono orecchiabili e la trama è coinvolgente. È un film che ha conquistato il cuore di molte persone, bambini e adulti. Hai qualche serie animata preferita? Sì. Una delle mie serie animate preferite è... E. Simpson. È un classico che continua a farmi ridere ad ogni episodio. Le avventure di Homer e la sua famiglia sono divertenti, e spesso riflettono sulla società in modo intelligente. Concordo. E. Simpson, è una serie animata iconica che ha saputo mantenere il suo fascino nel corso degli anni. È incredibile come riescano a trattare temi seri in modo umoristico. Un'altra serie animata che mi piace molto, è... Dragon Ball. Ho trascorso tante ore a seguire le avventure di Goku, e i suoi amici. Le battaglie epiche e l'evoluzione dei personaggi, mi hanno sempre appassionato. Ah. Dragon Ball. Anche io ho apprezzato molto quella serie. È piena di azione e adrenalina. Non posso dimenticare le famose mosse di combattimento come il Kamehameha. Esatto. Le mosse di combattimento di Goku sono leggendarie. Dragon Ball, ha sicuramente lasciato un segno nella storia degli anime. Marco. Ti ho mai detto che sono una grande fan dei film dello studio Ghibli? Il mio vicino Totoro, è uno dei miei preferiti. Mi fa sentire come se tornassi bambina, con tutte le sue creature fantastiche. Giulia. Anche io adoro gli anime dello studio Ghibli. Il mio vicino Totoro, è un capolavoro che trasmette un senso di meraviglia e immaginazione. È un film che apprezzo tanto quanto te. Un'altra serie animata che mi ha affascinato è... Avatar, la leggenda di Aang. La storia di Aang e il suo viaggio nel mondo degli elementi, è piena di avventure e insegnamenti preziosi. Sì. Avatar, la leggenda di Aang. È un'ottima scelta. È una serie animata che ha saputo coinvolgere un vasto pubblico, grazie alla sua trama vincente, e ai personaggi ben sviluppati. Hai qualche altro film d'animazione preferito? Certo. Un altro film d'animazione che mi ha colpito è... Up. È una storia commovente che mi ha fatto ridere e piangere allo stesso tempo. Mi ha insegnato l'importanza di perseguire i propri sogni. Up. È davvero toccante. L'amicizia tra il vecchio Carl e il giovane Russell è così dolce e significativa. È uno di quei film che ti lasciano un segno nel cuore. Hai mai visto la serie animata, Gravity Falls? È una delle mie preferite. La trama misteriosa e gli enigmi, da risolvere mi hanno tenuto incollato allo schermo. Gravity Falls. È fantastica. Adoro il mix di avventura, comicità e suspense. È una serie che ti tiene con il fiato sospeso fino all'ultima puntata. Sai? Mi piace come i film e le serie animate possano trasportarci in mondi fantastici, e farci vivere emozioni intense. Sono una vera fonte di ispirazione. Sono d'accordo al 100%. Non importa l'età che abbiamo, le storie animate ci toccano profondamente e ci fanno sognare. Marco. Mi hai fatto venire in mente un altro film d'animazione che adoro, Coco. È un film così toccante che affronta il tema della famiglia e dell'importanza di ricordare le nostre radici. Giulia. Coco, è un capolavoro assoluto. Mi ha fatto riflettere sul valore della memoria e sulla forza dei legami familiari. La colonna sonora è straordinaria. Assolutamente. Le canzoni di, Coco, sono davvero belle e coinvolgenti. Mi sono emozionata molto durante il film. Hai mai visto, Toy Story? È una delle saghe animate più amate di sempre. Ho un legame speciale con questi personaggi e le loro avventure. Sì. Ho visto tutti i film di, Toy Story, e sono fantastici. È incredibile come abbiano saputo creare un'intera storia intorno ai giocattoli. È una vera lezione di amicizia e fiducia. Concordo pienamente. La saga di, Toy Story, ci insegna a dare valore alle persone che ci sono accanto e a non dimenticare mai l'importanza dell'infanzia. Un'altra serie animata che mi ha affascinato è, Rick and Morty. È un mix di fantascienza e umorismo nero che mi ha catturato fin dalla prima puntata. Rick and Morty. È davvero fuori dagli schemi. La genialità del nonno Rick e le avventure assurde di Morty, ti fanno scoppiare dal ridere. È una serie unica nel suo genere. Esatto. È una serie che si distingue per il suo umorismo irriverente e le trame complesse. È adatta a un pubblico più maturo, ma mi ha divertito molto. Hai ragione. È importante apprezzare la varietà di stili e generi che l'animazione ci offre. Ogni serie o film ha qualcosa di speciale da offrire. Infatti, è proprio questa diversità che rende l'animazione così affascinante. Ci permette di esplorare mondi fantastici, e di vivere emozioni uniche. Sono davvero felice di aver condiviso con te i nostri film e serie animate preferiti. Mi hai fatto venire voglia di rivederli tutti. È stato un piacere parlare di queste produzioni con te. Spero che altri possano scoprire e apprezzare la bellezza dell'animazione. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 3 I nostri gusti preferiti di gelato. In questa conversazione, Marco e Sara discutono dei loro gusti preferiti di gelato. Condividono le loro scelte e parlano delle ragioni per cui amano quei gusti in particolare. Ciao Sara. Mi piacerebbe parlare dei nostri gusti preferiti di gelato. Qual è il tuo gusto preferito? Ciao Marco. Il mio gusto preferito di gelato è il cioccolato. Adoro il suo sapore ricco e cremoso. È il mio comfort food preferito. Capisco. Il cioccolato è davvero delizioso. Anche io lo apprezzo molto. Ma il mio gusto preferito è la fragola. Amo la sua dolcezza naturale e il colore vivace. Oh! La fragola è un'ottima scelta. È un gusto fresco e fruttato. È perfetto per l'estate. Sì, esattamente. La fragola è perfetta da gustare in una calda giornata estiva. Mi piace quando il gelato alla fragola è fatto con frutta fresca. Hai ragione, Marco. È fantastico quando il gelato è fatto con ingredienti di alta qualità. Mi piace anche il gelato alla vaniglia. Soprattutto se è fatto in casa. Anch'io amo la vaniglia. È un gusto classico che si abbina bene a tanti dessert. Puoi personalizzarlo con topping come cioccolato fuso o frutta fresca. Hai ragione, Marco. La vaniglia è versatile e si presta a molte combinazioni. Ma, sapendo quanto ti piaccia la fragola, hai mai provato il gelato alla fragola con pezzi di cioccolato? No, non l'ho mai provato, ma suona delizioso. La combinazione di fragola e cioccolato sarebbe perfetta per me. Devo assolutamente provarla. Ti consiglio di farlo, Marco. È una combinazione davvero gustosa. Ma dimmi, hai qualche altro gusto di gelato che ti piace particolarmente? Sì, c'è un altro gusto che adoro, il pistacchio. Mi piace il suo sapore unico e il colore verde intenso. È diverso da tutti gli altri gusti di gelato. Sì, il pistacchio è davvero speciale. Ha un gusto ricco e leggermente salato. È una scelta interessante e deliziosa. Mi fa piacere che tu lo trovi interessante anche tu, Sara. Penso che il gelato sia un modo meraviglioso per rinfrescarsi e godersi un momento di dolcezza. Ciao Sara, sono contento di continuare a parlare dei nostri gusti preferiti di gelato. Abbiamo già menzionato il cioccolato, la fragola, la vaniglia e il pistacchio. Hai altri gusti che ti piace provare? Assolutamente, Marco. Mi piace anche il gelato alla menta. Adoro la sua freschezza e il suo sapore rinfrescante. È perfetto dopo una cena pesante. Sì, la menta è davvero rinfrescante. Anche io lo apprezzo molto, specialmente in combinazione con il cioccolato. Il gelato alla menta e cioccolato è un classico. Concordo, Marco. La combinazione di menta e cioccolato è davvero deliziosa. Mi ricorda le vacanze estive quando andavo in gelateria con la mia famiglia. Che bei ricordi. Il gelato ha sempre un modo speciale di creare momenti felici. Hai altri ricordi legati al gelato che vorresti condividere? Certo. Un altro ricordo legato al gelato è quando andavo a fare una passeggiata con i miei amici e ci fermavamo sempre in una gelateria lungo il percorso. Era un momento di gioia e compagnia. Mi piace molto l'idea di associare il gelato a momenti di socializzazione con gli amici. È un modo per rafforzare i legami e creare ricordi speciali. Esattamente, Marco. Il gelato ha questo potere di unire le persone. Mi piace anche provare gusti diversi quando visito nuove città o paesi. È fantastico. È un modo per esplorare la cultura culinaria di diversi luoghi attraverso il gelato. Hai qualche gusto esotico o insolito che hai provato? Sì. Una volta ho provato il gelato al sesamo. Era molto particolare, con un gusto leggermente tostato. Era diverso da tutto ciò che avevo assaggiato prima, ma mi è piaciuto l'esperienza di provare qualcosa di nuovo. Che coraggio! Sono curioso di provare anche io il gelato al sesamo. Mi piace sperimentare nuovi gusti. Grazie per aver condiviso questa idea. Di nulla, Marco. È sempre bello scoprire nuovi gusti e condividere queste esperienze. Credo che il gelato sia molto più di un semplice dessert. È un modo per esplorare i sapori e creare ricordi. Concordo pienamente, Sara. Il gelato ha un posto speciale nel cuore delle persone. Mi fa piacere aver condiviso questa conversazione con te. Ciao Sara. Siamo giunti all'ultima parte della nostra conversazione sul gelato. Prima di concludere, mi piacerebbe sapere se hai qualche altro gusto insolito da consigliarmi. Certamente, Marco. Un gusto insolito che ho provato di recente è il gelato al formaggio di capra con miele. Può sembrare strano, ma la combinazione di dolcezza e leggero retrogusto salato è davvero interessante. Wow! Non avrei mai pensato a una combinazione del genere. È affascinante come il gelato possa sorprenderci con gusti inaspettati. Mi piace l'idea di sperimentare nuove sfumature di sapore. È proprio così, Marco. Il mondo del gelato è pieno di creatività e innovazione. Ogni volta che vado in una gelateria, cerco di provare un gusto diverso per ampliare le mie preferenze. È un'ottima idea, Sara. Espandere i nostri orizzonti gustativi ci permette di scoprire nuove delizie. Grazie per la tua condivisione. È un piacere, Marco. Ma non posso fare a meno di chiederti qual è il tuo gusto di gelato preferito in estate e in inverno. In estate, il mio gusto preferito è il gelato alla fragola. È fresco e dolce, perfetto per rinfrescarsi durante le giornate calde. In inverno, invece, adoro il gelato alla nocciola, con il suo sapore avvolgente e cremoso. Sono scelte fantastiche, Marco. Anche io amo il gelato alla fragola in estate, mentre in inverno prediligo il gelato al cioccolato fondente per coccolarmi durante le serate fredde. Il gelato al cioccolato fondente è un'ottima scelta invernale. Ha quel sapore intenso e avvolgente che ti fa sentire al caldo anche nelle giornate più fredde. Esattamente, Marco. Il gelato ha il potere di donarci piacere e comfort in ogni stagione. È un dolce che ci fa sorridere e ci unisce. Sono completamente d'accordo, Sara. Grazie per questa piacevole conversazione sul gelato e i suoi gusti. Grazie a te, Marco. È stato divertente scoprire le nostre preferenze e parlare di questo delizioso dessert. Continueremo a esplorare nuovi gusti insieme. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 4 I giochi e i giocattoli dell'infanzia. Marco e Laura si scambiano ricordi e parlano dei loro giochi e giocattoli preferiti dell'infanzia. In questa parte della conversazione, si concentrano sui giochi da tavolo e i giochi all'aperto. Ciao Laura. Mi piace tanto parlare dei bei ricordi dell'infanzia. Mi ricordo di passare ore intere giocando a giochi da tavolo con la mia famiglia. Tu hai qualche gioco preferito? Ciao Marco. Sì. Anch'io ho molti bei ricordi legati ai giochi da tavolo. Uno dei miei preferiti era il Monopoli. Adoravo comprare e vendere proprietà immobiliari e cercare di diventare il giocatore più ricco. E tu? Quale gioco da tavolo ti piaceva di più? Mi piaceva molto il risico. Era un gioco di strategia in cui dovevi conquistare il mondo, una mappa con tanti territori diversi. Ci divertivamo un sacco a pianificare le nostre mosse, e a combattere per il controllo dei territori. Era sempre un'emozione. Mi sembra un gioco interessante. Marco. Mi piaceva anche giocare all'aperto con i miei amici. Uno dei giochi preferiti era nascondino. Passavamo ore a cercare i posti migliori dove nasconderci e a cercare di trovare gli altri giocatori. Era sempre una grande avventura. Sì. Il nascondino era davvero divertente. Mi piaceva anche giocare a calcio con i miei amici nel cortile di casa. Passavamo le giornate a fare partite improvvisate e a cercare di segnare il gol vincente. Era una vera sfida. Anche a me piaceva giocare a calcio. Marco. Ricordo che facevo parte di una squadra di calcetto e ci allenavamo regolarmente. Era fantastico mettersi alla prova e migliorare le nostre abilità nel gioco del calcio. Che bello, Laura. Avevi molta passione per il calcio. Cosa ne pensi dei giochi di ruolo? Io adoravo vestirmi da supereroe, e immaginare di salvare il mondo. Anch'io adoravo i giochi di ruolo. Mi piaceva vestirmi da principessa e fingere di vivere in un castello incantato. Era divertente inventare storie e interpretare personaggi fantastici. Ci si perdeva completamente nell'immaginazione. È vero, Laura. I giochi di ruolo ci permettevano di esprimere la nostra creatività e di vivere avventure straordinarie. Che bei ricordi. Mi piace ricordare quelle giornate spensierate dell'infanzia. Sì. Sono davvero dei bei ricordi che porteremo sempre con noi. Penso che i giochi e i giocattoli abbiano un posto speciale nei nostri cuori. Ci fanno sentire bambini ancora una volta. Anche quando siamo cresciuti. Hai perfettamente ragione, Laura. Non importa quanti anni passino, i giochi e i giocattoli restano sempre un legame speciale con l'infanzia. Sono un modo per riscoprire quella meraviglia e quell'innocenza che solo i bambini possono provare. Esattamente. Marco. Mi fa piacere aver condiviso questi ricordi con te. È bello sapere che abbiamo vissuto momenti simili durante l'infanzia. Grazie a te, Laura. È stato bello parlare di giochi e giocattoli, e tornare indietro nel tempo. Mi ha fatto sorridere e mi ha reso ancora più grato per quei bei momenti. Laura. Ricordi quando eravamo bambini e trascorrevamo ore intere a giocare all'aperto? Mi piaceva molto passare il tempo fuori casa con i miei amici, soprattutto durante l'estate. Tu quale era la tua attività preferita? Marco. Anch'io adoravo giocare all'aperto con gli amici. Una delle attività che amavo di più era il salto con la corda. Passavamo ore a saltare e cercare di superare i nostri record personali. Era un ottimo esercizio e ci divertivamo un sacco. Marco. Sì. Il salto con la corda era davvero divertente. Mi piaceva anche giocare con il pallone. Ricordo che organizzavamo partite di calcio improvvisate nel cortile di casa o nel parco. Era un modo fantastico per stare all'aria aperta e fare movimento. Assolutamente. Marco. Anche io adoravo giocare a calcio. Mi piaceva sfidare gli amici e cercare di segnare il gol vincente. Era una competizione sana e ci faceva sentire parte di una squadra. Mi fa piacere sentire che avevamo la stessa passione per il calcio, Laura. Sai, un altro gioco all'aperto che mi piaceva molto era Light and Seek, nascondino. Ti nascondevi in un posto, e gli altri dovevano trovarti. Era sempre un'avventura emozionante. Ah sì. Il nascondino. Anche a me piaceva tanto giocare a quel gioco. Era divertente cercare il posto migliore per nascondersi e restare in silenzio sperando di non essere scoperti. Mi ricordo di quei momenti pieni di adrenalina. Esattamente. Laura. Erano momenti indimenticabili. Mi piaceva anche andare in bicicletta con gli amici. Esploravamo i dintorni. Andavamo in giro per il quartiere, e scoprivamo nuovi posti. Era una grande avventura su due ruote. Anche a me piaceva molto andare in bicicletta. Marco. Era un modo fantastico per esplorare e sentire il vento tra i capelli. Ricordo che facevamo gare di velocità o semplicemente pedalavamo senza meta. Erano momenti di libertà e divertimento. Hai proprio ragione, Laura. Quei momenti di gioco all'aperto ci permettevano di stare in contatto con la natura, di fare movimento e di creare ricordi preziosi. Penso che dovremmo ancora cercare di ritagliare del tempo per queste attività anche da adulti. Sono d'accordo con te. Marco. Anche se siamo cresciuti, non dobbiamo dimenticare l'importanza di giocare e divertirci. Ci aiuta a rilassarci. A mantenerci attivi e a riaccendere quella scintilla di meraviglia che avevamo da bambini. Esattamente, Laura. Sono grato per tutti quei giochi e attività che abbiamo vissuto da bambini. Hanno contribuito a formare la persona che siamo diventati. Ricordarli ci fa tornare indietro nel tempo, e ci riempie di gioia. È vero. Marco. Sono felice di aver condiviso questi ricordi con te. I giochi all'aperto sono davvero speciali e rimarranno sempre nel nostro cuore. Grazie, Laura. È stato bello parlare di queste esperienze dell'infanzia. Mi hai fatto sorridere e mi hai fatto rivivere momenti felici. Sono grato di averti come amica. Laura. Ricordi quando giocavamo a tanti giochi tradizionali all'aperto? Uno dei miei preferiti era la palla avvelenata. Era un gioco in cui dovevamo cercare di colpire gli altri con una palla senza essere colpiti. Era un'esperienza emozionante, e ci faceva correre e schivare i lanci degli avversari. Oh sì. Marco. Anche io adoravo giocare alla palla avvelenata. Era divertente cercare di evitare la palla e allo stesso tempo cercare di colpire gli altri. Era una sfida di abilità e velocità. E ci faceva sentire come dei veri atleti. Hai ragione, Laura. Mi piaceva anche giocare a nascondino all'aperto. Cercavamo i posti più insoliti per nasconderci e aspettavamo con il fiato sospeso di essere trovati. Era un gioco che ci teneva in suspense, e ci faceva esplorare nuovi angoli del nostro quartiere. Sì. Il nascondino era un classico. Ricordo le risate che facevamo quando qualcuno cercava di nascondersi in un posto troppo piccolo o in un albero. Era un modo divertente per trascorrere il tempo all'aria aperta con gli amici. Un'altra attività che adoravo era l'arrampicata sugli alberi. C'erano molti alberi alti nel parco vicino a casa mia, e ci divertivamo a scalare i rami più robusti. Era una sfida di equilibrio e agilità. E quando raggiungevamo la cima, ci sentivamo dei veri esploratori. Oh! Anch'io amavo l'arrampicata sugli alberi. Mi sentivo come una scimmietta aggrappata ai rami. Era fantastico guardare il mondo da un'altezza diversa e sentirsi in contatto con la natura. È un'esperienza che mi ha insegnato a superare le mie paure e ad avere fiducia nelle mie capacità. Hai ragione, Laura. L'arrampicata sugli alberi ci ha insegnato a superare le nostre paure, e ad affrontare le sfide. Mi piaceva anche andare in bicicletta nei sentieri del bosco. Era un modo per esplorare la natura circostante, e godere della libertà di muoversi su due ruote. Sì. La bicicletta era un mezzo di trasporto fantastico per esplorare. Ricordo che andavamo in avventure in bicicletta con i nostri amici. Esploravamo nuovi percorsi. Pedalavamo lungo le colline e ci fermavamo per goderci paesaggi meravigliosi. Era un modo divertente per stare all'aperto e scoprire nuovi luoghi. Mi mancano davvero quei giorni, Laura. Le nostre avventure all'aperto erano piene di divertimento, e ci hanno insegnato tanto. Mi hanno insegnato a esplorare, ad affrontare le sfide e a connettermi con la natura. Sì. Marco, anche a me mancano quei momenti speciali. Le nostre esperienze all'aperto ci hanno regalato ricordi indimenticabili. Mi hanno insegnato l'importanza di stare in contatto con la natura e di vivere il presente. Dobbiamo fare in modo di portare con noi lo spirito dell'avventura e dell'esplorazione anche da adulti, Laura. Anche se le nostre responsabilità sono aumentate, dobbiamo trovare il tempo per giocare e divertirci all'aperto. Sono d'accordo. Marco, non dobbiamo mai perdere la gioia di giocare e di scoprire nuove cose. È importante per il nostro benessere mentale e fisico. Grazie per questa bella conversazione. Mi hai fatto tornare indietro nel tempo e ricordare tante emozioni positive. Grazie a te, Laura. È stato bello condividere questi ricordi, e ricordare insieme i momenti felici dell'infanzia. Siamo fortunati ad aver vissuto quelle esperienze che ci hanno formato come individui. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 5 Passione per la fotografia. Luca e Martina, due appassionati di fotografia, parlano delle loro esperienze personali nel mondo della fotografia e condividono le loro emozioni riguardo a momenti speciali catturati con la macchina fotografica. Ciao Martina. Vedo che hai sempre la tua macchina fotografica con te. Sei appassionata di fotografia? Ciao Luca. Sì, sono appassionata di fotografia da quando ero adolescente. Mi piace catturare momenti speciali e creare ricordi duraturi attraverso le immagini. È fantastico. Anch'io ho una grande passione per la fotografia. Mi piace immortalare la bellezza del mondo che ci circonda. È davvero gratificante, vero? Ci sono momenti unici che possono essere catturati solo attraverso l'obiettivo della macchina fotografica. Assolutamente. Ricordo un viaggio in montagna durante il quale ho scattato una foto di un meraviglioso tramonto. L'atmosfera era magica e la luce del sole che filtrava tra le nuvole creava un'immagine davvero suggestiva. Che bello! I tramonti sono sempre fonte di ispirazione per i fotografi. Amo fotografare la natura e i paesaggi mozzafiato. Hai ragione. La natura offre tante opportunità fotografiche. Anche i dettagli più piccoli possono trasformarsi in immagini straordinarie. È vero. Una volta ho scattato una foto a un fiore in primo piano. La sua bellezza e i suoi colori vibranti erano così intensi che ho potuto catturare ogni dettaglio. Le foto di dettagli sono affascinanti. Possono rivelare aspetti nascosti e rendere visibile ciò che di solito passa inosservato. Esattamente. Ma non sono solo i paesaggi e la natura a ispirarmi. Mi piace anche fotografare le persone e catturare le loro emozioni. Sono d'accordo. Le foto ritratto possono raccontare storie e cogliere la vera essenza delle persone. Mi piace immortalare i momenti spontanei e autentici. C'è una foto che ho scattato durante una festa di compleanno. Catturava l'espressione di gioia sul volto di una bambina mentre soffiava le candeline sulla torta. Era un momento così felice e l'immagine lo rifletteva perfettamente. Che bello! Le foto che raccontano momenti di gioia sono davvero speciali. Catturano istanti fugaci che altrimenti potrebbero essere dimenticati nel tempo. Esatto! La fotografia ha il potere di preservare i ricordi e permette di riviverli ogni volta che si guarda l'immagine. Sono davvero felice di aver condiviso la mia passione per la fotografia con te, Martina. È bello incontrare qualcuno che capisce l'importanza dietro ogni scatto. Sono d'accordo, Luca. È stimolante parlare con qualcuno che condivide la stessa passione. Non vedo l'ora di scoprire di più sulle tue esperienze fotografiche. Martina. Hai qualche consiglio da darmi per migliorare le mie abilità fotografiche? Certo! Luca. Innanzitutto, ti consiglio di esplorare diverse tecniche fotografiche. Prova a sperimentare con la profondità di campo, la composizione e l'uso della luce. Grazie per il consiglio. Mi piacerebbe imparare a utilizzare la profondità di campo in modo creativo. Hai qualche suggerimento su come farlo? Certamente. Puoi iniziare a giocare con l'apertura del diaframma. Scegli un soggetto principale e imposta un'apertura ampia per sfocare lo sfondo, creando così un effetto di profondità. Interessante. Proverò sicuramente questa tecnica. E riguardo alla composizione, hai qualche consiglio da darmi? Assolutamente. La regola dei terzi è un buon punto di partenza. Immagina una griglia con linee orizzontali e verticali che dividono l'immagine in nove parti uguali. Posiziona il soggetto principale lungo una di queste linee o sui loro punti di intersezione per creare una composizione equilibrata. Mi piace l'idea della griglia dei terzi. Sembra un modo semplice ma efficace per migliorare la composizione delle mie foto. Grazie per il suggerimento. Di nulla, Luca. Sono felice di poterti aiutare. E per quanto riguarda l'uso della luce, hai qualche consiglio da darmi? Sì. Vorrei imparare a sfruttare al meglio la luce naturale. Quali sono le tue strategie per ottenere foto ben illuminate? Un buon consiglio è cercare la cosiddetta, luce dorata. Questa si verifica poco dopo l'alba o poco prima del tramonto, quando il sole è basso sull'orizzonte e la luce ha una tonalità calda e morbida. Sfrutta questo momento per scattare foto con una luce bellissima. Ottimo suggerimento. Cercherò di catturare la luce dorata durante le mie prossime sessioni fotografiche. Mi piace come la luce può trasformare completamente un'immagine. Esattamente. Luca. La luce è uno degli elementi più importanti della fotografia. Sperimenta con diverse angolazioni e intensità per ottenere effetti interessanti. Grazie. Martina. I tuoi consigli sono davvero utili. Mi sento motivato a continuare a migliorare le mie abilità fotografiche. Sono felice di sentirti così. La fotografia è un percorso di apprendimento continuo e l'importante è divertirsi e sperimentare. Non vedo l'ora di vedere i tuoi progressi. Grazie ancora. Martina. Non vedo l'ora di condividere con te le mie nuove foto, e di continuare a imparare da te. Sarà fantastico. Luca. Continuiamo ad appassionarci alla fotografia insieme. Martina. Mi hai dato molti consigli preziosi finora. Mi chiedevo se hai anche qualche suggerimento su risorse o strumenti, che potrebbero aiutarmi a migliorare le mie abilità fotografiche. Certamente. Luca. Esistono molte risorse online che offrono tutorial e guide pratiche sulla fotografia. Puoi cercare video su piattaforme come YouTube o iscriverti a siti web dedicati alla fotografia. Ottimo. Mi piace l'idea di imparare attraverso tutorial video. Conosceresti qualche canale YouTube o sito web che potrei consultare. Certo. Luca. Alcuni canali YouTube popolari per la fotografia includono, Fromos Photo, e, Digital Rev TV. Inoltre, puoi visitare siti web come, DP Review, o, Photography Life, per trovare articoli e recensioni utili. Grazie. Martina. Farò sicuramente una ricerca su questi canali e siti web. Sono sicuro che troverò molte risorse interessanti. Sono contenta di poterti aiutare, Luca. Ricorda anche di partecipare a workshop o corsi di fotografia. Molte città offrono lezioni o incontri per fotografi di tutti i livelli. Ottima idea. Mi piacerebbe unirmi a un workshop locale per incontrare altri appassionati di fotografia e imparare da professionisti del settore. Sicuramente. I workshop sono un'ottima opportunità per imparare e condividere esperienze con altri fotografi. Potresti trovare ispirazione e nuove prospettive. Non vedo l'ora di partecipare a un workshop. Sono sicuro che mi aiuterà a crescere come fotografo. Grazie per il consiglio. Martina. Di nulla. Luca. Sono felice di poterti aiutare nella tua passione per la fotografia. Ricorda anche di unirti a comunità online di fotografia. Come gruppi su Facebook o forum. Dove puoi condividere le tue foto e ricevere feedback. Grazie. Martina. Mi piace l'idea di connettermi con altri fotografi e condividere il mio lavoro. Sarà un modo fantastico per ricevere consigli e migliorare ancora di più. Esattamente. Luca. La condivisione e l'interazione con altri fotografi ti aiuteranno a crescere e a sviluppare ulteriormente il tuo stile personale. Non vedo l'ora di mettere in pratica tutti questi suggerimenti. Sono davvero grato per la tua guida, Martina. È stato un piacere, Luca. Sono sicura che diventerai un fotografo ancora migliore. Continuo ad esplorare, sperimentare e divertirti con la fotografia. Grazie ancora, Martina. Se avrò domande o vorrò condividere le mie nuove foto, saprò a chi rivolgermi. Assolutamente. Luca. Sono qui per te. Continuiamo a coltivare la nostra passione per la fotografia insieme. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 6 Soggetti preferiti in fotografia parte 1 In questa conversazione, Sofia e Matteo parlano dei loro soggetti preferiti e dei temi che amano fotografare. Condividono le loro passioni per la fotografia e discutono dei motivi per cui questi soggetti li ispirano. Ciao Matteo. Oggi vorrei parlare dei nostri soggetti preferiti in fotografia. Qual è il tuo soggetto preferito da fotografare? Ciao Sofia. È difficile scegliere un solo soggetto preferito, ma uno dei miei preferiti è la natura. Adoro fotografare paesaggi, fiori e animali. Mi piace catturare la bellezza della natura e condividere quei momenti di tranquillità attraverso le mie fotografie. Anche io amo fotografare la natura, Matteo. I paesaggi mozzafiato, i colori vibranti dei fiori e l'energia degli animali mi ispirano molto. La natura è una fonte infinita di bellezza da immortalare. Sono d'accordo, Sofia. Un altro soggetto che mi affascina è il ritratto. Mi piace catturare l'espressione e l'anima delle persone attraverso i loro volti. Ogni volto racconta una storia unica e mi piace catturare quei momenti di autenticità e di emozione. Il ritratto è davvero interessante, Matteo. Catturare l'essenza delle persone e mostrarne la loro personalità attraverso una fotografia è un'arte in sé. Mi piace anche fotografare i volti delle persone che incontro e cogliere la loro bellezza unica. Concordo pienamente, Sofia. Un altro soggetto che trovo affascinante è l'architettura. Mi piace fotografare edifici, monumenti e strutture in modo da catturare la loro grandiosità e il loro design unico. L'architettura può raccontare una storia e mi piace immortalarla attraverso le mie fotografie. L'architettura è un soggetto molto interessante, Matteo. I dettagli delle costruzioni e l'imponenza degli edifici possono essere davvero affascinanti. Mi piace anche fotografare gli interni degli edifici, cercando di catturare l'atmosfera e la bellezza degli spazi. Hai ragione, Sofia. Un altro soggetto che mi piace è il reportage. Mi piace fotografare eventi, manifestazioni e momenti di vita quotidiana. Catturare i momenti spontanei e raccontare storie attraverso le mie fotografie è una sfida affascinante. Il reportage è davvero coinvolgente, Matteo. Documentare la vita e cogliere i momenti significativi può trasmettere emozioni forti attraverso le fotografie. È un modo per condividere storie e far riflettere gli altri. Esattamente, Sofia. Continuiamo a esplorare i nostri soggetti preferiti e a trovare nuove ispirazioni per le nostre fotografie. La fotografia è un modo meraviglioso per esprimere la nostra creatività e condividere il nostro sguardo sul mondo. Matteo, nella nostra ultima parte della conversazione sui soggetti preferiti in fotografia, mi piacerebbe sapere se ci sono altri temi che ti ispirano. Certamente, Sofia. Un tema che mi affascina molto è la street photography. Mi piace fotografare la vita di strada, cogliere momenti di quotidianità e catturare l'energia delle persone e degli ambienti urbani. È un modo per esplorare la città e documentare la vita delle persone che la abitano. La street photography è davvero affascinante, Matteo. Catturare l'autenticità della vita di strada e i momenti fugaci che si verificano nelle nostre città può essere molto emozionante. È un modo per raccontare storie e cogliere la bellezza del caos urbano. Concordo pienamente, Sofia. Un altro tema che mi piace è la fotografia di viaggio. Mi piace immortalare luoghi nuovi, culture diverse e paesaggi mozzafiato. Viaggiare mi offre l'opportunità di scoprire nuovi soggetti e di condividere le mie esperienze attraverso le fotografie. La fotografia di viaggio è meravigliosa, Matteo. Ogni luogo ha una sua atmosfera unica e fotografare durante i viaggi ci permette di preservare i ricordi e di condividere la bellezza del mondo con gli altri. È un modo per raccontare le nostre avventure e per ispirare gli altri a esplorare il mondo. Hai ragione, Sofia. Un altro tema che trovo interessante è la fotografia macro. Mi piace fotografare dettagli di oggetti e di elementi naturali in modo da mostrarne la bellezza nascosta. La fotografia macro mi permette di esplorare il mondo minuto e di cogliere la sua meraviglia. La fotografia macro è davvero affascinante, Matteo. Catturare i dettagli e le textures degli oggetti può rivelare una bellezza sorprendente che spesso sfuggirebbe all'occhio umano. È un modo per apprezzare la bellezza e la complessità del mondo che ci circonda. Sono d'accordo, Sofia. Un altro tema che mi piace è la fotografia di eventi. Mi piace immortalare momenti speciali come matrimoni, feste e concerti. Catturare l'energia e l'emozione di questi momenti è gratificante e mi permette di condividere gioia e felicità attraverso le mie fotografie. La fotografia di eventi è molto coinvolgente, Matteo. Catturare i momenti speciali nella vita delle persone e preservarli per sempre è un dono meraviglioso. È un modo per creare ricordi duraturi e per far rivivere emozioni anche dopo che l'evento è passato. Esatto, Sofia. Continuiamo a esplorare nuovi temi e soggetti nella nostra fotografia. La bellezza della fotografia sta nel poter catturare momenti unici e renderli eterni attraverso le immagini. Matteo, nella nostra ultima parte della conversazione sui soggetti preferiti in fotografia, mi piacerebbe sapere come ti senti quando scatti fotografie. Certo, Sofia. Quando scatto fotografie, mi sento vivo e creativo. La fotografia mi permette di esprimere la mia visione del mondo e di catturare momenti che suscitano emozioni. Mi dà la possibilità di esplorare la mia creatività e di comunicare attraverso le immagini. Anch'io mi sento così, Matteo. La fotografia è un modo per esprimere me stessa e mostrare agli altri come vedo il mondo. Mi dà la libertà di raccontare storie, di condividere emozioni e di trasmettere un messaggio senza parole. Esattamente, Sofia. La fotografia è un linguaggio universale che va oltre le barriere linguistiche. Mi piace il fatto che una singola immagine possa trasmettere emozioni e raccontare una storia senza bisogno di parole. Hai ragione, Matteo. La fotografia ha il potere di evocare emozioni e di far rivivere momenti. È un modo per preservare i ricordi e per permettere agli altri di immergersi nelle nostre esperienze. Un'altra cosa che amo della fotografia è la possibilità di vedere il mondo con occhi diversi. Mi aiuta a notare i dettagli e a trovare bellezza anche nelle situazioni quotidiane. Mi rende più consapevole e mi invita ad apprezzare le piccole cose della vita. Sono d'accordo, Matteo. La fotografia mi ha insegnato ad essere più attenta e a trovare ispirazione ovunque. Anche le situazioni più comuni possono trasformarsi in immagini significative se si guarda con occhi attenti e curiosi. Un'altra cosa che mi piace della fotografia è la possibilità di connettermi con altre persone. Condividere le mie fotografie mi permette di entrare in contatto con gli altri e di suscitare reazioni e riflessioni. È un modo per creare connessioni e di aprire un dialogo visivo. Sì. La fotografia può davvero unire le persone, Matteo. È un linguaggio comune che ci permette di condividere esperienze e di vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri. È un'opportunità per imparare, ispirarsi e crescere come fotografi e come individui. Continuiamo a esplorare il meraviglioso mondo della fotografia, Sofia. Catturiamo i momenti speciali, esprimiamo noi stessi attraverso le immagini e continuiamo a coltivare la nostra passione per la fotografia. Hai ragione, Matteo. La fotografia è un viaggio senza fine. E non vedo l'ora di vedere dove ci porterà la nostra passione. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 7 Ispiranti storie personali In questa prima parte della conversazione, Marco e Sofia si scambiano storie personali ispiranti. Parlano di momenti significativi delle loro vite che li hanno motivati e spinti a perseguire i propri sogni. Ciao Sofia. Hai mai vissuto un momento nella tua vita che ti ha ispirata profondamente? Ciao Marco. Assolutamente. C'è stato un momento che ha avuto un grande impatto sulla mia vita. Quando ero più giovane, ho avuto l'opportunità di partecipare a un progetto di volontariato in un villaggio rurale. Lì ho visto la forza e la resilienza delle persone che lottavano contro le avversità. Questa esperienza mi ha insegnato l'importanza di aiutare gli altri e mi ha motivata a dedicare parte del mio tempo al volontariato. Che bella esperienza, Sofia. È incredibile come i momenti di volontariato possano avere un impatto così profondo. Per me, l'ispirazione è venuta da mio nonno. Era un uomo umile ma molto saggio. Mi ha sempre incoraggiato a perseguire i miei sogni e mi ha insegnato il valore del duro lavoro. La sua determinazione e la sua saggezza mi hanno ispirato a dare sempre il massimo in tutto ciò che faccio. È meraviglioso avere un mentore come tuo nonno, Marco. I modelli di ruolo positivi possono fare una grande differenza nella nostra vita. Mi hai fatto venire in mente un'altra storia ispirante. Ho una cara amica che ha superato una malattia grave. Nonostante le difficoltà che ha affrontato, ha mantenuto un atteggiamento positivo e ha lottato con coraggio. La sua forza e resilienza mi hanno insegnato a non arrendermi mai di fronte alle avversità e ad apprezzare ogni giorno della mia vita. È davvero toccante, Sofia. Le storie di persone che affrontano sfide e le superano sono fonte di grande ispirazione. Mi hai fatto ricordare di un atleta che ammiro molto. Ha subito un infortunio grave che avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera. Ma invece di arrendersi, ha lavorato sodo per tornare in forma e ha raggiunto risultati incredibili. La sua determinazione e la sua resilienza mi hanno insegnato che, anche quando sembra tutto perduto, possiamo trovare la forza per superare le difficoltà. Sono completamente d'accordo. Marco. Le storie di perseveranza e resilienza ci ricordano che possiamo superare qualsiasi ostacolo. Mi piace ascoltare queste storie di successo perché mi danno la motivazione e la fiducia per perseguire i miei obiettivi personali. È proprio così, Sofia. Le storie personali possono essere una grande fonte di ispirazione e ci mostrano che le sfide possono essere superate. Non vedo l'ora di sentire altre delle tue storie ispiranti. Sarà un piacere condividerle con te, Marco. Ci sono ancora molte storie che mi hanno influenzata positivamente e che vorrei raccontarti. Continueremo a parlare delle nostre esperienze nella prossima parte della conversazione. Ciao Sofia. Sono davvero curioso di sentire un'altra delle tue storie ispiranti. Hai qualche altro momento che ti ha segnato? Certo. Marco. Un altro momento importante nella mia vita è stato quando ho deciso di imparare a suonare uno strumento musicale. Da bambina ho sempre ammirato i musicisti e desideravo poter suonare uno strumento. Ho scelto la chitarra e ho iniziato a prendere lezioni. Non è stato facile. Ma con impegno e perseveranza, sono riuscita a imparare a suonare alcune canzoni. Questa esperienza mi ha insegnato l'importanza della disciplina e mi ha dato fiducia nelle mie capacità. Che bello, Sofia. La musica ha un modo speciale di toccare le nostre vite. Anch'io ho avuto un'esperienza significativa nella musica. Quando ero al liceo, ho avuto l'opportunità di partecipare a un concerto scolastico come cantante. Non ero mai salito su un palco prima di allora, ma ho deciso di superare la mia timidezza e di mettermi in gioco. È stata un'esperienza emozionante e mi ha aiutato a superare la paura di esprimermi in pubblico. È fantastico. Marco, superare la paura di mettersi in mostra è un grande passo verso la crescita personale. Mi hai fatto venire in mente un altro momento ispirante. Durante il mio primo anno di università, ho avuto l'opportunità di partecipare a un progetto di volontariato all'estero. Ho vissuto in un villaggio remoto e ho lavorato per migliorare le condizioni di vita delle persone. Questa esperienza mi ha aperto gli occhi su nuove realtà e mi ha insegnato l'importanza di mettersi al servizio degli altri. È straordinario, Sofia. Le esperienze di volontariato all'estero possono davvero avere un impatto profondo sulla nostra visione del mondo. Mi hai fatto venire in mente un altro momento significativo. Quando ero alle superiori, ho partecipato a un programma di scambio culturale in un altro paese. Ho vissuto con una famiglia ospitante e ho imparato a conoscere una nuova cultura e una nuova lingua. Questa esperienza mi ha aperto la mente e mi ha insegnato a essere aperto alle differenze e a valorizzare la diversità. È meraviglioso. Marco, i programmi di scambio culturale sono un'opportunità unica per crescere e ampliare i nostri orizzonti. Sono contenta che tu abbia avuto questa esperienza positiva. Continuando a condividere queste storie, ci rendiamo conto di quanto le esperienze personali possano plasmare la nostra vita. Assolutamente, Sofia. Sono grato per tutte le esperienze che mi hanno formato come persona. Sono ansioso di sentire la prossima storia che condividerai nella parte successiva della nostra conversazione. Sarà un piacere. Marco. Abbiamo ancora molte storie interessanti da raccontare. Non vedo l'ora di continuare la nostra conversazione. Sono entusiasta di continuare a scoprire le tue storie ispiranti, Sofia. Hai qualche altra esperienza da condividere? Certamente. Marco. Un momento di grande sfida nella mia vita è stato quando ho deciso di iniziare un percorso di studio molto impegnativo. Ero un po' spaventata all'idea di affrontare nuove sfide accademiche. Ma ho deciso di mettermi alla prova. È stato difficile. Ma con determinazione e supporto, sono riuscita a superare gli ostacoli e a raggiungere i miei obiettivi di studio. Questa esperienza mi ha insegnato che la perseveranza e la fiducia in se stessi possono portare a risultati sorprendenti. Wow! Sofia! Affrontare sfide accademiche richiede davvero coraggio e impegno. Ammiro la tua determinazione nel raggiungere i tuoi obiettivi. Un momento di grande sfida nella mia vita è stato quando ho deciso di intraprendere un'attività sportiva molto impegnativa. Ho sempre avuto paura di provare nuovi sport, ma ho deciso di superare le mie paure e di iscrivermi a un corso di arti marziali. È stato difficile all'inizio, ma nel tempo ho imparato ad apprezzare il processo di apprendimento e a superare i miei limiti fisici e mentali. È fantastico! Marco, affrontare sfide fisiche e superare i propri limiti può portare a una grande crescita personale. Un altro momento di sfida che mi ha segnato è stato quando ho deciso di cambiare carriera. Mi sentivo intrappolata in un lavoro che non mi soddisfaceva pienamente. Quindi ho preso la decisione di seguire la mia passione e di cercare una nuova opportunità professionale. È stato spaventoso lasciare la mia zona di comfort, ma alla fine è stata la scelta giusta. Oggi mi trovo realizzata e felice nella mia nuova carriera. È un passo coraggioso, Sofia. Cambiare carriera può essere una decisione difficile da prendere, ma è bello sentire che hai trovato la tua felicità professionale. Un momento di sfida nella mia vita è stato quando ho affrontato un periodo di perdita e dolore. Ho perso una persona cara e ho dovuto affrontare il processo di lutto. È stato un periodo molto difficile, ma ho imparato l'importanza di prendersi cura di se stessi, di chiedere aiuto e di trovare sostegno nella famiglia e negli amici. Questa esperienza mi ha reso più forte e mi ha insegnato l'importanza di apprezzare ogni giorno. Mi dispiace sentire della tua perdita. Marco. Affrontare il dolore è un processo difficile. Ma è bello sentire che hai trovato la forza per superare quel momento difficile. Ognuno di noi ha la propria storia di sfide e di successi. E condividerle ci aiuta a imparare e a ispirare gli altri. Assolutamente, Sofia. Condividere le nostre storie ispiranti ci collega in un modo speciale. Sono grato di aver avuto l'opportunità di ascoltare le tue storie e di condividere le mie con te. Anch'io sono grata. Marco. Questa conversazione è stata davvero significativa e mi ha ispirato. Spero che le nostre storie possano motivare altri a non arrendersi di fronte alle sfide e a cercare la crescita personale. Grazie mille per aver guardato il nostro video. Non dimenticarti di mettere mi piace e di iscriverti al canale. Grazie e a presto. Grazie a tutti.